Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati. Parliamo di calcio mercato ma non legato esclusivamente al Milan. Parliamo del calcio mercato di tre squadre della Serie A, tra cui il nostro grande Milan. Perché, lo sappiamo tutti, a seguito di questa grave pandemia mondiale, il mercato, le strategie di calcio mercato sono ben differenti rispetto alle scorse stagioni dove venivano spese, dove venivano investiti ingenti somme di denaro. Ma ci sono due formule che vanno per la maggiore a seguito di questa grave crisi economica. Il prestito, prestito con diritto di riscatto, oppure il tradizionale scambio, tra cui le contropartite tecniche, tra una società e l'altra. E proprio tre squadre, tra cui il nostro Milan, potrebbero essere coinvolte in una operazione di maxiscambio. Stiamo parlando del Milan, dell'Atalanta e della Juventus. Stiamo parlando indirettamente di Romero, stiamo parlando di Demiral, stiamo parlando di Romagnoli e stiamo parlando di Bernardeschi. Adesso facciamo un attimo ordine per capire quello che potrebbe essere uno scenario, un probabile scenario, di maxiscambio di calcio mercato, seppur non legato strettamente a scambi veri e propri, magari anche, diciamo, legati a un indennizzo economico, ma tante di queste operazioni potrebbero avvalersi di uno scambio. Romero, partiamo da Romero, partiamo dall'Atalanta. Romero piace moltissimo al Tottenham, piace moltissimo a Fabio Paratici, che dopo in qualche modo averlo venduto, quando era la Juventus all'Atalanta per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, ora vuole portarlo con forza, con decisione, al Tottenham. Il Tottenham che potrebbe offrire ben 50 milioni di euro, bonus compresi all'Atalanta, Atalanta che sta in qualche modo valutando, ma è propensa nel cedere il calciatore argentino a questa cifra, cifra davvero importante. Atalanta che però dopo la cessione, la probabilissima cessione ormai imminente di Romero, andrà sul calcio mercato, andrà su un obiettivo, andrà su De Miral, perché sembra che dopo Pezzella, che interessava anche al Milan, piaccia moltissimo anche il giocatore turco della Juventus De Miral, per cui la valutazione della Juve è di circa 35-40 milioni di euro. La Juve, che quei soldi lì poi li destinerà all'acquisto di Locatelli, quindi coinvolgiamo anche il Sassuolo. Quindi Romero al Tottenham, De Miral o al Dortmund, ma molto probabilmente potrebbe andare all'Atalanta, il Milan. Il Milan perché viene chiamato in causa? Si viene chiamato in causa perché qualora partisse De Miral, potrebbe interessare la Juve soprattutto in virtù del piede mancino Alessio Romagnoli. Perché la Juventus, ricordiamo, ha Bonucci, ha De Ligt e poi a Chiellini, e quindi vorrebbe un altro giocatore, un altro centrale col mancino. E Romagnoli potrebbe entrare in questo discorso. La Juventus, che non ha probabilmente la liquidità necessaria per strappare Romagnoli al Milan, seppur a un anno dalla scadenza di contratto, avendo Bernardeschi, potrebbe offrire a noi del Milan Bernardeschi. Quindi Milan potrebbe in qualche modo, diciamo, colmano una lacuna tattica, una lacuna tecnica, un acquisto, perché il Milan sta cercando proprio un esterno alto offensivo. Quindi Bernardeschi che potrebbe venire in scambio pari con Alessio Romagnoli. Quindi, come vedete, potrebbe essere tante manovre, ribadiamo Romero al Tottenham, De Miral all'Atalanta o al Dortmund. In base a questo la Juventus acquista Locatelli, coinvolto anche il Sassuolo. Juventus che, cedendo De Miral, ha bisogno di un centrale. Il centrale che arriva dal Milan, Romagnoli, e il Milan ha bisogno di un esterno. E ora potrebbe arrivare Bernardeschi. Un maxiscambio, un grande collaborazione perché questo calciomercato serve tanta fantasia, serve estro, un po' come faceva il dottor Gagliani quando era la guida del Milan. Perché il mercato è un mercato più povero rispetto alle scorse stagioni a seguito proprio della grave pandemia globale, dei mancati ingressi da match day, quindi dagli ingressi dagli stadi, botteghini. E quindi ci serve un po' di creatività. E le società di Serie A hanno dimostrato in questi ultimi anni di avere grande creatività. Potrebbe nascere questo maxintrigo, maxiscambio di calciomercato. E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.